Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Il pallone riesce a recuperarlo, alza bene, per un passaggio stile pallavolo con Gaius che va a stoppare. Gentile va a cercare Andrea De Nicolao, incredibile, incredibile errore da far di Gentile. A profiter del vantaggio che si crea in differenti centimetri, adesso con il cambio c'è vantaggio anche su Stipcevic. Intanto questo bellissimo blocco cieco con taglio vettore di Cotti che prende la lay-up. Ora ancora Adrian Banks, Mike Green, per forza prendere questo tiro lo scadere di 24, appoggia il tabellone e poi ancora Dunstan a convertire l'ennesima schiacciata della sua partita. La schiacciata tra la metà campo, la Dinamo, 34 secondi. A proposito di peculiarità, l'aspettavamo, è arrivato. Ma bambua something! Polonara cosa non fa, altissimo, aveva due reattori al posto dei carretti in questa azione. Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco.